Portare aiuto sempre e comunque anche in situazioni difficili come nel caso dell'alluvione che ha recentemente colpito le Marche. Con questo spirito venerdì 7 e sabato 8 ottobre a Pesaro si è tenuta la 27esima edizione delle gare nazionali di primo soccorso della Croce Rossa italiana. La gara organizzata con il supporto del comitato regionale Marche e del comitato pesarese ha visto i volontari suddivisi in 15 squadre regionali impegnati in diversi scenari di emergenza allestiti ad hoc sfruttando i luoghi più caratteristici della città come teatri di intervento. L'iniziativa ha permesso di confrontare e valutare in un contesto sereno ma anche estremamente scrupoloso la loro preparazione. Il primo classificato è stata la Lombardia, secondo il Piemonte, terzo il Veneto. A Pesaro sono presenti le rappresentative regionali della Croce Rossa italiana provenienti da tutta Italia e si misurano in vari scenari di intervento. Le nostre volontari e i nostri volontari truccatori, simulatori e giudici hanno allestito degli stand delle stazioni in cui vengono ricostruite delle situazioni di disastro, di feriti, di incidenti. Le squadre entrano nella stazione e agiscono immediatamente. Sulla base di questo vengono valutati, ma a parte il lato competitivo, la cosa principale è il lato formativo. Sulla base di questo si affinano le tecniche di primo soccorso, comprendiamo dove si può migliorare nella formazione per essere sempre pronti ad aiutare le persone vulnerabili. Del resto il primo soccorso è uno degli atti più grandi di umanità che esistono, perché permette di salvare le vite umane, permette di prevenire le malattie e gli incidenti. Ha dimostrato e dimostra come è accaduto nel recente disastro a seguito dei fenomeni atmosferici che sono stati qui nel Pesarese, quanto avere dei volontari capaci possa davvero fare la differenza nell'aiuto e nel soccorso alla popolazione. Siamo stati presenti sin da subito nelle zone, sia con la nostra struttura nazionale e con i mezzi in ausilio al Dipartimento di Protezione Civile, sia con le volontarie e i volontari marchigiani che si sono messi all'opera per aiutare nei soccorsi. Nella data in cui c'è stata l'alluvione era proprio previsto lo svolgimento delle gare che poi sono state rinviate, proprio per consentire anche a coloro i quali erano venuti dall'Aggresso d'Italia di poter dare una mano e consentire ai volontari del luogo di poter dedicarsi esclusivamente alle persone alluvionate. Prima di arrivare e ultima partita è quello che un po' fra noi volontari ci diciamo, ma è un po' una realtà, una garanzia, un patto di fiducia che noi facciamo con la popolazione, in maniera tale che si possa sempre contare su quella che noi chiamiamo istituzione, che è la Croce Rossa Italiana. Fra le iniziative anche quella che si è tenuta alla palla di pomodoro dove i pesaresi hanno imparato a salvare persone. Infatti proprio lì si sono svolte più sessioni di manovre salvavita, spiegate in maniera chiara, dal paziente che viene trovato incosciente a terra, sino a cosa fare fino all'arrivo dell'ambulanza.